Sono ancora da chiarire i contorni dell'aggressione subita nella notte tra domenica e lunedì da un operatore socio-sanitario a Cammarata. Il giovane, un 31enne di San Giovanni Gemini, stava percorrendo la via onorevole Bonfiglio, quando all'improvviso è stato aggredito e picchiato selvaggiamente, riportando numerose ferite. Da chiarire anche il numero degli aggressori. Non è ancora stabilito se siano state uno o più persone a mettere in atto l'aggressione. Gli investigatori dell'arma devono ancora ascoltare la deposizione della persona offesa, che subito dopo l'accaduto è stata accompagnata all'ospedale di Mussomeli, dove i medici che hanno prestato le prime cure hanno indicato una prognosi di 30 giorni. Gli investigatori stanno anche verificando l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona di via onorevole Bonfiglio a Cammarata, per vedere se siano state registrate immagini utilizzabili per identificare chi ha compiuto il violento assalto.